Rufo, terzo, ottavo, gran bell'inizio. Sì, sopra le aspettative. Ero abbastanza nervoso stamattina perché con poco vento i valori in campo si appiattiscono, grazie a Dio è arrivato un po' d'aria. Sapevamo di essere abbastanza veloci con questo vento, però sono state due partenze molto tirate, la prima c'erano 20 gradi in pin per cui ha sportellato fino all'ultimo, non riuscite a partire prima in pin, poi abbiamo tirato primi da boasuo in bollina e poi ci siamo passati in due di quelli top top per cui li abbiamo fatti passare per il vento. Non l'avrebbero apprezzato male se hai un novellino. Poi la seconda, invece, siamo partiti malissimo, ma più che male eravamo terrorizzati, c'era bandiera nera di Farro CS per cui realmente non abbiamo mai cazzato le vele e qua il nostro obiettivo intanto, come dicevo l'altra volta, era di entrare nei primi 17 per passare il gruppo, abbiamo fatto una partenza bruttissima, abbiamo girato su, penso, metto i cinquesimi e poi pian piano mi ha recuperato, infatti sono contento soprattutto per la seconda regata dove da dietro mi ha recuperato perché partire prima in pin con 10 gradi di ritro, hai trottiero a sinistra, gira prima non è difficile, da dietro recuperare vuol dire che qualcosa un po' abbiamo capito della barca, quindi soprattutto da seconda sono contento. Adesso altre due? Adesso altre due, sì, abbiamo un'oretta e mezza penso di riposo e dopo altri due. Ok, giusto il tempo di farlo sapere in Italia, ci vediamo all'arrivo della prossima, ciao ragazzi!